Io credo che tutta questa solitudine, questa mancanza d'affetto, di amore, di lavoro che mi ha accompagnato per tutta la vita, mi abbia fatto male alla psiche ed anche al fisico. Adesso per il gassarmi cerco di suonare qualcosa, di stream per live, volevo dire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.